Un uomo scende da un treno, è molto esitante, nel suo passo incerto si ferma, raccoglie con fatica in un piccolo contenitore che tiene nascosto dentro di sé le sue poche cose. Un uomo scende, viene da un istituto psichiatrico e si avvia in una casa di estrema periferia, in un luogo di accoglienza per malati di mente, cronici. E in questo luogo rivive un po' la sua storia, dalla quale non è stato capace di liberarsene e che ancora continua a tormentarlo. È un uomo che non ha quasi linguaggio, ricorda soltanto borbotta alcune frasi incomprensibili, Quindi quando si riesce a capire qualcosa delle sue parole, sono per rammentare parole che ha sentito o che sono state dette durante la sua infanzia. Una infanzia molto semplice, vissuta in un ambiente molto ristretto, la percezione è quella di grande solitudine. In questo ambiente molto squallido, triste, lui ha modo di ripercorrere i luoghi della sua infanzia. Questo avviene con una serie di flashback di cui è intessuto quasi tutto il film. Dei flashback particolari in cui vediamo la compresenza del personaggio, del personaggio Clegg, adulto. La compresenza sua insieme con i personaggi che animavano la sua infanzia. Quindi lui è lì, adulto, e contemporaneamente è presente il bambino e i genitori, l'ambiente. Questa compresenza ha, secondo me, un significato abbastanza particolare. Insomma, è il modo con cui il regista vuole dirci una cosa. Fondamentalmente vuole dirci la soggettività di questa narrazione. Se il flashback fosse avvenuto normalmente, come lo vediamo nei film, avviene tutto quello che è successo e poi la storia prosegue nel tempo attuale. Qui invece siamo in una sovrapposizione di due tempi diversi. Quello del protagonista adulto e quello del protagonista bambino. Il protagonista adulto che ricorda e nello stesso tempo rivive la sua situazione iniziale. Ci dà la dimostrazione di una soggettività. Cioè, ci mostra come in realtà quello che è successo potrebbe non essere successo esattamente così, mi viene raccontato, ma è successo così nella mente del personaggio che lo ha vissuto. Quindi si mette in allarme. Quella situazione che lui rivive potrebbe non essere quella che realmente è successa, ma potrebbe essere la sua elaborazione dell'esperienza che ha vissuto. Tecnica cinematografica, tecnica del racconto, per mettere in risalto una questione fondamentale. E quindi per renderci come spettatori dubitanti. Che quegli eventi che vengono raccontati non siano in realtà degli eventi realmente successi, ma siano quegli eventi come li ha vissuti la mente del protagonista. E quindi come lui li ha elaborati, come lui li ha percepiti. E quali sono gli eventi? Sono gli eventi di un padre piuttosto violento, aggressivo, che trascurava la moglie, che cercava altra compagnia in locali piuttosto equivoci con le prostitute. E quindi probabilmente episodi spiacevoli ai quali il protagonista da bambino aveva avuto modo di assistere. Il fatto di andare a recuperare il padre in questi locali equivoci, di sentirsi provocare anche dalle prostitute e così via. All'interno di questo, in una situazione probabilmente edipica, il bambino ha cominciato a elaborare, ha vissuto una grande solitudine, non ci sono fratelli, non ci sono altre persone per la casa. Tutto viene vissuto in estrema solitudine, in estrema povertà anche culturale e intellettuale. Qualcosa che ricorda dei ricordi della madre sono la storia di una ragnatela, di un ragno che in qualche modo accende le sue fantasie di questo ragno che una volta fecondata la femmina poi non serve più e muore in questa ragnatela che la madre aveva visto in un albero. e lui gioca, gioca con lo spago, gioca a costruire queste ragnatele, ragnatele che sono simbolicamente il frutto di una costruzione mentale, di una organizzazione dello spazio, uno spazio chiuso, insomma, che ti imprigiona, che non ti lascia spazio e chiude. pure se i fili sono sottili, invisibili e quindi contorti. Quindi la sua mente elabora, elaborando, vede nel padre l'aggressore e l'assassino della madre, cosa che lui vive emotivamente come tale e di cui non ha dubbi. E in questa scena la sua mente è assolutamente sconvolta, tanto che diventa una scena che poi segnerà tutta la sua infanzia e il suo non sviluppo, la sua patologia successiva. La prostituta che il padre frequenta sostituirà la moglie e quindi ci sarà questa percezione da parte del protagonista che la moglie con cui vive il padre non sia più la vera madre, ma sia la prostituta. Questa ambiguità che persiste in tutto il film e di cui noi non sappiamo perché fino alla fine noi crediamo che questa cosa sia vera e quindi questa ambiguità che rimane, cioè che è la proiezione del frutto di questa fantasia allucinata del bambino che continua a ricamare su questa vicenda. Tanto che il bambino elaborerà una sua vendetta e questa vendetta farà sì che attraverso un complicato meccanismo di spaghi, di gioco di ragnatele, arriverà a far sì che questa compagna in cui vive il padre che per lui è una prostituta ma che la scena finale poi del film ci lascerà intendere che in realtà invece era la madre, lui arriverà ad ucciderla col gatto. Avrà attuato un po' la sua vendetta nei confronti del padre, nei confronti della donna che secondo la sua fantasia avrebbe traviato il padre. Sarebbe stata la responsabile della morte della madre e ne avrebbe preso il posto. Il film però ci lascia intuire che tutto questo non corrisponde alla realtà e quindi è all'origine della sua dissociazione. Le sue percezioni non corrispondevano a quello che era la realtà. Si poteva intuire proprio da come il protagonista rivive, cioè da come è dentro, guarda da dentro, stando dentro, quindi in questa sincronicità temporale tra il momento di adesso, il momento adulto e il momento infantile. Lui è là che si guarda vivere quando era bambino e prende nota in un suo tacuino durante il film a cui tiene molto, insomma, di tutte queste piccole cose. Lui si è portato dietro uscendo soltanto una valigia dove ci sono i suoi oggetti, fondamentalmente ancora lo spago o alcune piccole cose di nessun valore, insomma, no? Che costituivano tutto il suo bagaglio della sua infanzia in questa situazione di miseria anche culturale. L'immagine di questa madre era l'unica presenza in qualche modo e il protagonista vive continuamente disturbato da questa cosa che non lo ha lasciato crescere, non lo ha lasciato maturare, vive continuamente consumato da questo dolore, da questa disgregazione anche mentale che subisce. E il film si gioca in questa atmosfera chiusa con un rigore molto accentuato, molto rifinito nei particolari, molto giocato con una perfetta lucidità, chiarezza, insomma. Il simbolo poi, insomma, no? Non si conclude in questo, nel senso che il protagonista vedrà anche poi in tutto quello che gli ricorda la madre qualcosa di minaccioso e quindi una volta che va scoperto nell'armadio anche una belliccia che ricorda quella della madre, anche la tenutaria di questa casa di riabilitazione in cui lui viene sarà oggetto della sua attenzione, nel senso che cercherà di ucciderla anche quella perché sarà vissuta da lui come un'immagine minacciosa, come colei che ha preso il posto della madre e lui prenderà nota in questo tacuino con una calligrafia illeggibile minuziosamente in un estremo tentativo di riportare a sintesi il suo passato, prenderà nota di queste cose che di volta in volta lui riesce a vedere, a rivivere, a ripercorrere senza però venirne a capo. Non riuscirà a trovare una verità all'interno di questo viaggio. In realtà siamo di fronte a una situazione di tipo schizofrenico, non siamo di fronte a una situazione nevrotica in cui la possibilità di rielaborare il passato possa essere fonte di un nuovo modo di vedere il presente. Nel suo tentativo di rielaborare questo passato lui non può che arrivare a un'ulteriore disgregazione di se stesso, non riacquisterà anche simbolicamente un linguaggio, sarà sempre afasico in tutto il film. Il suo destino sarà quello di ritornare in ospedale psichiatra. Quindi questa storia chiusa testimonia l'incapacità di uscire da se stessi, l'incapacità di avere un rapporto con gli altri che sia fatto di realtà e non soltanto di fantasia, cioè che il mondo altro non sia soltanto una produzione del proprio mondo interiore e quindi un'elaborazione del proprio mondo interiore, ma sia un confronto diretto. Quindi la necessità diciamo così che emerge da questo film è che ci sia un riconoscimento dell'altro e un confronto dell'altro senza il quale non è possibile la formazione, la costruzione di un io maturo capace poi di distinguere e di riconoscere la realtà da quello che è il prodotto della propria fantasia. Quindi la tendenza a vivere in un mondo diverso e separato rispetto a quello dei nostri simili alimenta la nostra immaginazione, i nostri sogni ma anche i nostri incubi e quindi l'inclinazione a vivere una realtà che si rifornisce prevalentemente dalla nostra elaborazione piuttosto che da un autentico rapporto con gli altri. questo è il pericolo che corriamo e questa è la necessità dell'altro nella nostra formazione, nella nostra dinamica psichica. E allora la ragnatela diventa una ragnatela di pensieri e di immagini che noi stessi costruiamo. per riuscire ad aprire questa ragnatela è necessario riconoscere l'alterità irriducibile a noi stessi insieme accettare il ruolo insostituibile che essa ha nella costruzione della nostra identità. Il titolo stesso di questo film ci riporta anche ad un mito ed è il mito di Aracne la quale Aracne abilissima nel tessere aveva osato sfidare la dea Atena nell'arte della tessitura e allora l'Atena infuriata trasformò la sua rivale in un ragno comandandola ad esercitare la propria arte appesa ad un filo e quindi imponendo questa punizione anche alla discendenza futura. Questo racconto lo troviamo nel secondo libro delle Metamorfose di Ovidio e questo ragno simbolicamente rappresenta un originario castigo cioè una sanzione conseguita ad una colpa di superbia questa pena quella di tessere la tela traendo da se stesso il materiale necessario alla tessitura e dunque alimentando con le proprie risorse la propria condanna questa tela che diventa qualcosa che ti tiene chiuso imprigionato la costruisci da te il ragno la costruisce tirando fuori da se stesso la baba necessaria alla costruzione della tela e poi ci rimane diciamo così imprigionato rimane chiuso in quel bozzo Aracne ha avuto la presunzione di poter prevalere perfino sulla dea giovandosi esclusivamente della propria arte della propria capacità e dunque attingendo da se stessa e per questo sarà condannata ad estrarre per sempre da se stessa il filo con il quale realizzare le sue opere insomma Aracne è stata un po' la vittima di se stessa e possiamo intuire di una smisurata stima di se stessa cioè di avere in sé tutti gli elementi necessari per costruire il mondo il proprio mondo la propria ragnatela una tela alla fine che poteva superare in bellezza anche quella della stessa dea Atena questo come diciamo simbolo di una incondizionata individualità individualità che viene unita individualità quindi come contrapposizione come il fatto di bastare a se stessi si contrappone invece alla necessità dell'altro ecco allora che il film ci mostra come nel rimanere chiusi in se stessi nella incapacità di elaborare un rapporto con l'altro questo bambino non avrà poi trovato un rapporto con gli altri insomma no lo vediamo vittima di una di una situazione assolutamente chiusa quindi non sappiamo se la colpa di non aver elaborato il rapporto con l'altro sia sua sia stata causata dalle condizioni in cui è venuto a crescere e a trovarsi insomma da tutto quello che ha condizionato la sua infanzia ma sta di fatto che non c'è stata la possibilità di costruire un rapporto significativo con l'altro e che quello che ne è conseguito è stata una alterata percezione della realtà anche della sua realtà più intima quella vissuta all'interno della sua famiglia che lo ha portato poi a un disastro sul piano della costruzione della sua stessa identità di una identità matura ha costruito una tela all'interno della quale è rimasto prigionato e non si vede una via di uscita quindi questo film di Kronenberg mostra sì una storia individuale ma mostra anche un possibile destino dell'umanità cioè compare una storia che può avere una valenza più ampia che può riguardare tutti noi nel momento in cui rimaniamo chiusi nei stessi nel momento in cui non ci confrontiamo non confrontiamo le nostre percezioni non confrontiamo le nostre convinzioni e rimaniamo isolati in un mondo che a volte non ha il coraggio di contraddirsi non ha il coraggio di mettersi in discussione o noi non vogliamo mettersi in discussione perdiamo il piano della realtà rispetto al quale il confronto con l'altro diventa indispensabile e il confronto con l'altro presume inevitabilmente il riconoscimento dell'altro come alterità e come necessità di questa alterità per la normale costruzione del sé di questa alterità di questa alterità